Perle ai Porsche Il marchio automobilistico tedesco lancia il suo primo superiact, a redi in fibra di carbonio, marmo e pelle, spa, piscina, forma tonda e vernice metallica come se dovesse correre in strada, per la modica cifra di 13 milioni di euro. Shrisple Assance per mail online. Yacht Porsche presentato a Viareggio copia. Porsche ha lanciato il suo primo superiacht da oltre 13 milioni di euro. È partito da Viareggio ed è in viaggio verso Monaco per partecipare all'annuale Yacht Show, che si terrà dal 27 al 30 settembre. Finora il marchio ne ha realizzati solo sette, per garantire una certa unicità ai proprietari. Si chiamano GTT 115, sono dotati di quattro cabine per gli ospiti, spa e piscina. Yacht Porsche presentato a Viareggio. Gli interni sono curati da Minotti, il cui lavoro è apparso anche nel film Fifty Shadows Darker.Gli arredamenti sono in fibra di carbonio, i piani del lavoro in marmo e le rifiniture in pelle. Lo yacht è dipinto con vernice metallica, quasi a ricordare un'automobile, ed ha forma curvilinea. . Yacht Porsche presentato a Viareggio copia 3. . Yacht Porsche presentato a Viareggio copia 2. Grazie a tutti.